Il Prism Show è in assoluto il più entusiasmante programma che esista. È un mix incredibile di moda, danza, pattinaggio e musica, combinati in un unico fantastico spettacolo. E tu come fai a sapere tutte queste cose? Ma lo sanno tutti, sì. Comunque, quello è un mondo che a me non interessa per niente. Già, perché faresti solo delle figuracce. Su, dai, provaci, sorellona. Perché non partecipi anche tu al Prism Show? Ma cosa dite? È una cosa impossibile. Sì, d'accordo, adesso ci provo, ma solo un pochino. Ti faccio vedere io, stai a guardare. Oh, che peccato! Ti sei fatta male! Papa!